75 anni di Repubblica, un bilancio positivo che consente di costruire il futuro. Sergio Mattarella chiude le celebrazioni della festa della Repubblica con un messaggio di fiducia e speranza perché spiega la pandemia ha fatto riscoprire il senso civico. Il Paese non è fermo. La Repubblica possiede valori e risorse per affrontare queste sfide a viso aperto. La Repubblica ha potenzialità straordinarie. L'Italia, la nostra patria, ha le carte regola per farcela. Mattarella ripercorre la storia repubblicana, evidenzia che si è trattato di un'impresa collettiva risultato dello sforzo di tanti. Cardine è la Costituzione che sancisce libertà, legalità, solidarietà, eguaglianza o umanità. Certo, ammette la nostra Repubblica imperfetta ancora troppe ingiustizie e diseguaglianze, specie per le donne per le quali non siamo ancora al traguardo della parità. Serve il contributo di tutti e l'esortazione del capo dello Stato ciascuno ha bisogno degli altri e l'Europa è una grande risorsa. Con i giovani un ideale passaggio di testimone, impegnatevi nelle sfide nuove. Tocca ora a voi scrivere la storia della Repubblica.